Amici di Football News My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faccio un video proprio breve breve ed a titolo informativo. Come tutti sapete il campionato è sospeso, almeno fino a maggio non si giocherà, gli europei sono stati rinviati di un anno e quindi non essendoci partite ho deciso di iniziare una nuova rubrica. Una rubrica intitolata le top 11 dal 2002 ad oggi, video nei quali andrò a dire quali sono le mie migliori formazioni da quando seguo il calcio. Ci saranno video sulle squadre di club e video sulle nazionali in seguito. Sulle nazionali non dirò proprio la mia miglior formazione ma farò una rosa generale di circa 25 giocatori. Video usciranno ogni due giorni alle ore 15. Ditemi se quest'idea vi piace, vi sembra simpatica. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento riguardo quest'idea ma soprattutto a restare a casa. Ciao ragazzi!